Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Carlo e benvenuti in questo nuovissimo Vlogmas. Oggi è il 25 dicembre e buon Natale a tutti. Ora vi faccio vedere i miei regali di Natale, che ho ricevuto sotto l'albero. Ecco qua. Allora, ecco i miei regali di Natale. Ecco il sacchetto. Adesso ve li faccio vedere. Ecco quello che ho ricevuto. Guardate qua. Just Dance 2021. E poi ho ricevuto anche Grimi, lo sbattitore elettrico da cucina, detto anche frusta elettrica, perché gira in modo così, sbatte velocemente e verranno delle bellissime cose cremose. E questo invece è l'albero con le bombe di Lush, che a me piace molto la linea Lush. Ne vado fiero, perché mi ha fatto morbido come quando ero bimbo. E questo è un pacco regalo con le bombe da bagno di Lush. Ora ve lo faccio vedere. Ecco qui, c'è scritto per Carlo da Babbo Natale. E qui ci sono tutte le bombe da bagno che ho ricevuto da lui. Una è Snow Fairy, bomba da bagno. E l'altra bomba da bagno è Twilight, Jingle Bells, che sarebbe adesso che è Natale. Butterbeer, Angel's Delight. Poi anche Luxury Lush Pad. Poi anche Shoot for the Stars, che è quello con le stelle, quella bomba da bagno piena di stelle. Poi c'è Snowman Dreaming. Snowman Dreaming. Così si sarebbe corretto pronunciare. Poi c'è I want... I want a hippopotamus for Christmas, che sarebbe voglio un ippopotamo per Natale. Questo vuol dire in inglese. I want a hippopotamus for Christmas. E poi c'è anche Winter Garden, che sarebbe il giardino d'inverno, quello pieno di neve. Eccole qui, guardate. Una. Ecco anche quest'altra. Ecco quella a forma di ippopotamo. Ed eccone una bianca di bomba da bagno. Ed eccone una a forma di orzetto. Ed eccone una rosa con le stelle, che qui sono rosa pure loro. È fatta apposta. Eccone una, guardate. Con dei bellissimi cerchi. E questa è una cosa con tre lati che non so che è. Ecco un'altra bomba di lascio con il fiocco sopra. Ecco un'altra bomba da bagno natalizia. Ed ecco l'ultima. Quella con le stelle. Questa infatti era la shoot for the stars, che vi dicevo io. Bene, è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella perché non c'è motivo per non farlo. E seguitemi anche su TikTok, mi chiamo Carlo Masullo, tutto attaccato. Ora vi mando un grosso bacio. E buon Natale. Ciao ciao. Mua.